La Puglia è la prima regione in Italia per produzione agricola. Da questa consapevolezza la scelta di organizzare un convegno di rilevanza nazionale per approfondire il tema ed affrontarlo nelle sue varie articolazioni attraverso il contributo di esperti del settore. Nella campagna di Crispiano, sulla cui collina si erge la masseria Mastuola, un efficace confronto a più voce ha rilanciato l'importanza della dieta mediterranea e della qualità, della sicurezza e della sostenibilità. A presiedere i lavori, Sua Eccellenza è il prefetto di Taranto Paola Desì e il direttore generale dell'Asli Ionica Gregorio Colacicco. Eccellenza è l'agricoltura intesa nella sua accezione più ampia al centro dell'attenzione. Sì, sono dei temi importantissimi che il convegno nazionale odierno affronta con competenze di eccellenza. Sono dei temi, appunto, come dicevo, rilevantissimi perché le produzioni di eccellenza di questa terra devono assolutamente coniugarsi con la sicurezza dei lavoratori. Portare questi messaggi, questi approfondimenti anche nelle scuole, tra le nuove generazioni. Assolutamente, oggi sono presenti gli alunni di due istituti, l'Istituto di Scienze Umane, del Liceo con indirizzo Scienze Umane e del Mondelli di Agraria, perché è giusto che i giovani metabolizzano ma soprattutto colgano quelle che sono delle opportunità. Ad organizzare il convegno, sicuramente di notevole impatto socio-economico, lo spesa la dell'Asla di Taranto insieme a diversi soggetti strategici, tra cui l'INAIL. Da un po' di anni, con le istituzioni presenti sul territorio, abbiamo costituito una rete che è importante per affrontare queste problematiche in maniera sinergica e poter affrontare con tutte le forze che noi abbiamo in campo, che non sono poche, per sconfiggere il fenomeno infortunistico delle malattie professionali. Una straordinaria condivisione rispetto ad un obiettivo che è comune, con l'auspicio che questo possa servire a ridurre il fenomeno infortunistico in un'agricoltura che invece vede una tendenza in aumento. Questo è preoccupante. Ed è importante fare rete. Sì, questo convegno è la dimostrazione di come le istituzioni possano lavorare insieme e di come possano determinare strategie che sono comuni perché la salute è un bene comune. Tre partners istituzionali, la Regione Puglia, con l'assessore alla salute Rocco Palese in videocollegamento e l'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia. Lei ha fatto riferimento alla dieta mediterranea, un modello che va sicuramente migliorato. Sicuramente va rilanciato. Bisogna avere la cultura della conoscenza. Le giovani generazioni devono sapere che la nostra agrobiodiversità li fa vivere meglio, li fa mangiare meglio, fa evitare una serie di problemi di carattere salutistico perché dobbiamo rilanciare sul cibo salutistico. È un'azienda che cura i propri dipendenti, fa un'attività seria sulla prevenzione e sulla tutela del lavoratore e del lavoro. È un'azienda sostenibile che può vivere meglio se stessa ma piazzarsi meglio sul mercato per grazie a tutti.